Ciao a tutti amici, benvenuti nel nostro canale di... Mamma Vito e Figlio Gabri Ciao, come state? Noi come stiamo? Figlio Gabri è un po' malato, è vero? E quindi siamo a casa e abbiamo pensato di fare cosa? Un video Un gioco di Natale Abbiamo trovato una nuova app dove c'è un gioco di Natale Quindi ci sono delle cose da colorare o dei puzzle E da scoprire insomma Quindi ci proviamo Vediamo da dove vogliamo iniziare Proviamo a cliccare su Babbo Natale Sì perché su Babbo Natale si inizia Cosa stai facendo? Aspetta, aspetta Sto disegnando Olè, olè, olè Aspetta Aspetta perché hai scarabucchiato Eh sì perché Allora Eccoci Vai prova a cliccare su Eccoci Ah dobbiamo costruirlo È un puzzle Eccoci Quindi dobbiamo costruire È un puzzle da costruire Proviamo Dobbiamo fare il puzzle di Babbo Natale Che bello Era sbagliato? Eh sì Ah ma prima amici Cosa devono fare i nostri amici? Iscrivetevi al canale Lasciate tanti like Se volete continuare a vedere questo video Iscrivetevi ora amici Subito Subito Tanti iscritti Sì Vai continua col tuo puzzle Il braccio Il braccio Il braccio Non è va Manca l'ultimo pezzo Qui Ah grazie Vai Waooow Suoniamo le campagne Prova a andare qui Guarda che c'è Con i colori Possiamo disegnirlo Vai Allora Rosso Cosa facciamo con il rosso Cos'è questo La maglia La giacca di Baponatale Con il rosso Bravissimo E voi amici siete pronti Che Natale sta arrivando Baponatale sta arrivando Siete pronti No ma quella parte è bianca Le tocca rossa Vabbè non fa niente C'è la gomma guarda Cancella Bravissimo Odio Eh non sei bravissimo a colorare sul cellulare Sì lo so Meglio dal vivo È vero Cosa fai rosa Quella è nera Quella è il guanto Di Baponatale Nella mano Mamma La marrone Va bene marrone Va bene marrone Poi cosa c'è La barba Barba bianca La barba Di Baponatale Bianca Ecco Medio 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 Mettiamo più lontano Ecco Adesso Il cappello Il cappello rosso Eh sì Vai giù Eccolo lì Bravissimo Ok Il cappello rosso Io faccio tutto Ora mancano le scarpe nere Bravo La faccia rosa puoi farla ora È vero Fai la faccia rosa Ecco qua Poi Adesso I scapponi Sì I scapponi Scarponcini Sono lì Neri Bravissimo Il pantalone rosso Il pantalone rosso Questa parte qui del pantalone è rossa Ok Parla un po' rossa E poi ti manca il pallino del Del cappello bianco Il cappellino E poi manca il pallino del cappello Ok Bianco Wow Che bello Bravissimo Vediamo cosa facciamo qui Niente Oh Bingo Bravissimo Ah guarda Da qui puoi scattare una foto Guarda Puoi scattare una foto Ah stai salvando Immagine salvata nella galleria Ora proviamo a andare di qua Bravissimo Scegli L'albero di Natale Sì Questo si va in fila Ecco Ecco Dobbiamo costruire il puzzle dell'albero di Natale Come va Brava Poi Sì Poi Bravissimo Provateci anche voi amici Questa app si chiama Natale E la prima app che trovate Quando andate Regano Anche la bocca Mangia ha visto che mangia? si ora puoi colorarlo l'albero eccoci vai l'albero lo facciamo verde scuro va bene vai bravo jingle band jingle band jingle all the way all my family 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 siamo bravi? siamo bravi amici la pallina bianca? no fanno colorata ma perché? rossa rossa si vero vero rossa poi ancora rossa tutte rosse le fai? si va bene e ora manca la stella gialla non mi fa rimuovere per favore no no assolutamente no se no amici cosa avete chiesto a babbo natale? mh mh avete scritto la letterina fatto è proprio di sì è vero? sì tu cosa hai chiesto? dile ai nostri amici che non lo fanno il lego il lego polizia la macchina pop corn sì poi lego sonic lego sonic sì poi un quadretto con il nonno Gabriele una foto con il nonno che non c'è più è vero? e poi e poi cosa hai scritto nella letterina? un bel card non mi ricordo allora babbo natale non ti porta più niente un bassoio con i cibi i cibi per giocare ovviamente e poi e poi il twister terra sì il twister lo conoscete voi il twister amici è il gioco quello con le mani per terra e bisogna bravo con le mani con le gambe bisogna con i piedi assumere delle posizioni e chi si muove per primo perde poi lo scopriremo come funziona poi faremo anche un bel video è vero se 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 babbo natale ce lo porta tu hai fatto il bravo? sì ma hai imparato la poesia? sì sentiamo allora eh com'era com'era la poesia? la lanterna buia rossa c'è bisogno di una mossa ehm adesso accendo la cannella e illumino la sera guarda bene è speciale tanti auguri di buon natale bravissimo che bella poesia una filastrocca bella anche voi amici se avete imparato una poesia una filastrocca mandateci dei messaggi oppure scrivetelo nei commenti è vero? perché ci fa tanto piacere conoscere anche le vostre poesie ho finito l'albero è finito l'albero allora andiamo avanti cosa c'è da scoprire? volevo conservarlo cosa è questo? è il pan di zenzero il pan di zenzero bravissimo andiamo a costruire il pan di zenzero ecco piudu piudu ecco fai partire la vita alè guarda il pan di zenzero è un frutto era triste perché si è rotto tutto eccolo di nuovo ora maniamo le campane soniamo le campane e coloriamo il pan di zenzero eccoci mamma mia questa volta c'è contorno questa volta è più difficile mi sembra che questo è l'ultimo personaggio perché gli altri personaggi forse bisognerà sbloccarli no no ora lo scopriamo vediamo no sì perché solo questi erano no non si sbloccano vediamo fidami di me eh? fidami di me fidami di me fidati di me fidati di me ah ok non fidami fidati di me poi pan di zenzero bottoncini rossi poi anche la bocca no la bocca bianca no la bocca bianca sì gli occhi ecco gli occhi marroni dai tutto marrone sì aspetta proviamo a fare il contorno bianco provo io eh eh ok brava ah ora sì che sembra proprio un biscotto questo pan di zenzero vero? sì eccoci un po' colorati salviamo? sì ma prima non l'abbiamo salvato e ora vediamo al massimo lo rifacciamo andiamo andiamo di qua vediamo cosa c'è allora vedi che gli altri sono da sbloccare provo a cliccare su attendere eh sì questi sono da sbloccare sì questi sono da sbloccare eh anzi questi sono da acquistare vuoi rifare l'albero? così lo salviamo perché non l'abbiamo salvato è vero vai rifai l'albero e poi vorrà dire che dobbiamo sbloccare altri 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 giochi e nel prossimo video proviamo a fare un altro gioco ti va? troviamo un altro gioco di Natale così giochiamo con i nostri amici va bene? nel frattempo amici iscrivetevi al canale bello no lo so è che è un altro gioco è un altro gioco è un altro gioco ora noi rifacciamo l'albero perché si è tornato e deve camminare è un altro gioco è un altro gioco è un altro gioco come si è venuto? uh leccate guarda che abbiamo noi Ecco, così devi farlo Verde, rosso, giallo e marrone Sì Vai, prova Verde E marrone No, marrone sotto, bravissimo Perché trovo Poi Verde scuro Bravissimo Vai No, l'hai già salvata Dai però Vai, continua, continua Hai sbagliato Va bene, la risalviamo dopo Ci sei? Ora le palline rosse Poi la stella gialla E poi Salviamo la nostra immagine Il nostro disegno Eccoci Faccio questo, dai Sì, bravissimo Vai Bravo Eccoci qua Vediamo Facciamo dei raggi di luce così Ti piace, no? Ecco Vai, salva l'immagine Aspetta Devo fare tanti raggi di sole Sono tanti Di luce, non di sole Raggi di luce Quanti? Salva Vai sulla macchinetta fotografica Qui Eccoci Allora amici Vi è piaciuto questo video Iscrivetevi Se questo video vi è piaciuto Iscrivetevi al canale E lasciate Tantissimi like Ciao O O Ai 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 Ah si Grazie a tutti.